Sono in compagnia di Angelo Nicolosi, capitano dei bontà benessere, buonasera Angelo. Buonasera. Allora, primo tempo siete andati in vantaggio ma avete sofferto tantissimo soprattutto e anche per la bravura del portiere avversario. Senti, secondo te manca un attaccante a questa squadra? No, secondo me no, perché abbiamo sia due attaccanti mobili che sono Pellegrino e Randazzo e poi abbiamo un attaccante un po' più statico ma che vede la porta tantissimo che è Dario Soriano. E poi noi sfruttiamo molto le ripartenze perché abbiamo Dario Napoli a sinistra, a compagnino a destra, quindi cerchiamo di puntare anche sulle ripartenze. Senti, nel secondo tempo hai spostato Dario Napoli dietro la punta, dietro un 11 e lì chiaramente ti ha dato molta più possibilità in avanti perché è molto veloce. Sì, perché lui partendo da dietro ha maggiori spazi e riesce a pungere di più, riesce a creare superiorità numerica e ci dà, come dicevo prima, una grossa spinta e una grossa potenzialità che noi abbiamo in lui. Senti, nel secondo tempo gli ultimi 20 minuti sono stati schiacciati dagli avversari che hanno avuto tantissime occasioni. Cos'è stato un calo fisico oppure psicologico? Sì, è stata la paura di vincere. Abbiamo avuto paura di vincere. Ci siamo lasciati schiacciare, loro una buonissima squadra, buona in tutti i reparti, sia in avanti. Infatti avete battuto i campioni in carica dell'UniFriends League 2010. Senti, dove volete arrivare allora quest'anno? No, noi speriamo di divertirci, per come ci stiamo divertendo. Ci giochiamo tutte le partite, siamo dieci amici, non abbiamo nessuno che viene da chissà quale categorie e cose varie, anche se tutti sperano che dovesse arrivare qualcuno. Per me stiamo bene così. Poi se dovesse arrivare qualcuno, ben venga. Ma qualche nome magari ce lo puoi fare, ce lo puoi anticipare qualcuno? No, no, no. Parlare prima non ci sta, dai. Poi vedrete. Aspettiamo che arrivano. Ok, ringraziamo Angelo Nicolosi e gli auguriamo un buon proseguimento di campionato.